1. Questa sera l'unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie e 2. E all'una, massimo le due, andavamo tutti a dormire con 10 punti di vantaggio qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ha fatto un testa a testa che non è mai esistito e non nei sogni di che ha provato a raccontare un altro abruzzo, non quello che hanno scelto di elettori. Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti un'amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato. E' stata scritta una pagina di storia e ha battuto un altro muro. abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere e completare l'opera di rilancio ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo. Esprimo il mio profondo ringraziamento al popolo abruzzese per questo immenso privilegio che mi consento. Questa è la missione della mia vita, restituire alla terra dei miei padri la forza, la dignità, il ruolo che merita per dare alla sua gente tenace e laboriosa e soprattutto ai suoi figli la speranza di un futuro migliore. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e ha dimostrato di non avere nessuna nostalgia di un triste passato che si è gettato alle spalle già 5 anni fa.